Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Grotta Mare resiste. Il centro-sinistra del candidato Alessandro Rocchi regge l'urto dei tre sfidanti da vita al ballottaggio, vincendo al primo turno con il 56,12%. Un risultato netto quello di solidarietà e partecipazione, che parla di continuità, dato che Rocchi è stato il vice del sindaco uscente Enrico Piergallini. E al termine dello scrutinio hanno brindato insieme a questa vittoria elettorale. I cittadini hanno saputo riconoscere la buona amministrazione di Grotta Mare, non solo degli ultimi cinque anni, ma degli ultimi trent'anni, quindi dell'amministrazione di Movimento Solidario e Partecipazione. I primi obiettivi da raggiungere nel suo mandato? No, sicuramente adesso la priorità sono le scuole. Abbiamo finanziamenti del PNRR per la sistemazione e la messa in sicurezza delle scuole, quindi la priorità sarà quella adesso, nei prossimi mesi. Un ringraziamento particolare per chi? Il ringraziamento va a tutte quelle persone che ci sono state vicine nell'ultimo anno, nella stesura del programma elettorale, nella formazione delle squadre, dei 32 candidati e in tutti quelli che ci hanno sostenuto. Un ringraziamento, un abbraccio forte a tutti loro. Al secondo posto è il centrodestra con il candidato sindaco Marco Sprecacè che ha raggiunto il 29,28% con il sostegno di tre liste, tra cui partiti Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Marco Sprecacè, all'opposizione, se l'aspettava? Ce l'aspettavamo, abbiamo creduto in un progetto di rinnovamento, i cittadini ci hanno posto all'opposizione e noi all'opposizione staremo e daremo il nostro contributo da lì. Si pensava anche un possibile ballottaggio che invece non c'è stato? Avevamo ipotizzato di andare al ballottaggio, c'era un sentore che oggettivamente poi non si è rivelato tale, contavamo anche di avere degli appoggi più importanti anche da parte dei nostri avversari, questo non c'è stato e quindi Rocchi ha vinto il primo turno. Che opposizione sarà la vostra? Un'opposizione di proposta, noi vogliamo costruire realmente un cambiamento e un'alternativa a Grotta Mare. A seguire Lorenzo Vesperini con quattro liste civiche al 12,02% e infine Alessandra Manigrasso con Comunità in Movimento in rappresentanza dei Comitati Cittadini del Movimento 5 Stelle che si è fermata appena al 2,5%. Il villaggio di Grotta Mare resta inespugnabile, scrive il fumettista Michael Rocchetti di Michael e Mirko che dedica una vignetta a questa vittoria.